Don Luigi Di Liegro, primo direttore della Caritas di Roma, moriva 21 anni fa. Diverse le iniziative per ricordarlo. Ce ne parla Paola Aristodelo. I poveri, gli immigrati, i malati. Era il prete degli ultimi Don Luigi Di Liegro, il sacerdote delle strade di Roma, il sancabile nel combattere l'emarginazione. Chi è solo e spesso invisibile agli altri, diceva. Fondò nel 1979 la Caritas di Roma. Con lui si aprì il primo ostello per i senza fissa dimora alla stazione Termini, la prima mensa per i poveri di Via Marzala, il primo centro d'accoglienza per i malati di EDS. Quando questi malati nessuno li voleva. A 21 anni dalla sua morte nel 1997, il ricordo di Don Luigi è ancora vivo. Nella Caritas di Ocesana ancora si sente, si percepisce lo spirito di Don Luigi. La sua lettura ancora oggi per noi è un punto di partenza, di rielaborazione di pensiero e di modello di convivenza nella città. Quindi per noi è un'eredità ancora vivente. La Caritas di Ocesana fu tra i frutti del concilio Vaticano II, voluta anche da Paolo VI, che domenica prossima diventerà santo. Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani, diceva Don Luigi, ma soprattutto non si può amare senza condividere.